I fumetti sono una cosa da ricchi? Scopriamoli insieme con Dilan Dog 440 che raggiunge i 4,90€ con l'ennesimo aumento Bonelli, l'ennesimo aumento dei fumetti e come l'altra volta per indorare la pillola ci hanno dato un magro omaggio in questo caso la copertina io ho scelto quella del numero 1 ovviamente perché il numero 100 non mi piace, lo sapete e i magneti, tra l'altro abbastanza triste che siano da comporre cioè non ha molto senso e poi perché è diviso in 4 vabbè, non riesco a capire cioè non si sono nemmeno presi la briga di creare un magnete in un pezzo solo ma ce lo fanno costruire a noi vabbè, peccato, peccato la domanda è con questo nuovo aumento della Bonelli questo titolo sarà profetico? io rimarrò comprerò il prossimo numero di Dylan Dogg sta tutto in quanto mi piace questo numero Dylan Dogg 440 e poi non rimase nessuno di Vanzella e Pontrelli ai disegni Pontrelli che ha scomodato un sacco di star americane per questa storia che appunto ricorda molto uno di quei film corali pieno di star hollywoodiane che si rifanno a un libro di Agatha Christie mi viene in mente tra i più recenti Glass Onion il seguito di Knives Out oppure lo stesso Knives Out o anche Assassinio sul Nilo o Assassinio sull'Oriente Express dove è pieno di personaggi famosissimi che interpretano una parte in quei film qui Pontrelli ci ha regalato l'ispettore Poirot che ha le sembianze di Martin Freeman nell'ultimo Assassinio sul Nilo ci ha regalato anche M di James Bond qua che interpreta questa tizia qua ci hanno regalato questo qua sembra quello di di Better Call Saul che ha fatto anche una parte in in Hawkeye la serie tv quello con i baffi che fa lo spadaccino a un certo punto ho anche visto il sacerdote Imhotep della mummia e Cobie Smulders ovvero Robin Sherbaxty Sherbaxty di Aoi Meteor Mother poi abbiamo anche quest'altro tizio qui anziano che adesso mi sfugge il nome è un attore fantastico è quello che ha fatto Davy Jones e ha fatto anche il vampiro Victor nella saga Underworld il tutto circondati da una fantastica fantasma Maggie Smith quindi complimenti a questo grandissimo cast corale che Dylan Dog con cui Dylan Dog dovrà avere a che fare adesso malgrado tutto io ho apprezzato comunque questa questa scelta perché lo stesso fatto di avere volti molto noti richiama proprio le atmosfere di questi film che ho citato all'inizio e il fatto che appunto l'anfitrione di tutto questo circo sia proprio Dylan Dog rimescola un po' le carte in tavola su quello che è solitamente il suo ruolo e questa cosa a me è piaciuta noi sappiamo poi nel seguito di questa storia continuando a leggere sappiamo che Dylan Dog è stato ingaggiato che Graucio lo ha coinvolto in questo caso che lui magari non avrebbe accettato altrimenti ma lo scopriamo dopo e vedere invece Dylan Dog in questa in questa entrata così trionfale è comunque qualcosa di nuovo che mi ha spiazzato ma che con una spiegazione dopo qualche pagina mi ha anche rassicurato mi ha fatto capire che semplicemente non hanno disegnato il volto di Dylan sulla storia che poteva essere ben essere stata benissimo affidata a qualcun altro perché a volte ho questo dubbio però l'elemento sovrannaturale l'elemento poltergeist il fatto che Dylan ormai è due numeri consecutivi che palesemente parla con i fantasmi mi ha fatto capire che comunque è una storia di Dylan Dog a tutti gli effetti ricamata comunque in salsa giallo in salsa in salsa film scusate film libro di Agatha Christie qualcuno l'ha definito una dieci piccoli indiani in chiave di laniata ora io che adoro sette anime dannate non posso paragonare nulla a dieci piccoli indiani se non a sette anime dannate di Dylan Dog non ci paragonerei mai questo numero anche se a differenza di sette anime dannate che invece è molto più non lo so esoterico molto più sovrannaturale questo lo vedo molto molto più terra terra appunto a parte l'elemento del del fantasma di Maggie di Maggie Smith a parte questo l'ho visto molto terra terra come numero molto ancorato con i piedi per terra ed è anche stato un piacere vedere Dylan calato in questa in questa parte strano comunque averlo averlo visto così fuori dal suo elemento nel solo nel secondo numero post entropia o nel terzo comunque pochi numeri dopo io magari avrei aspettato un pochino di più però nonostante tutto l'ho apprezzato un numero indimenticabile assolutamente no un numero che fa come si dice passare una un'interessante lettura sicuramente questo sì si è tornati al classico sì in un certo senso si è tornati al classico c'è comunque qualche riferimento sul fatto che questo Dylan non ha non è incastonato in una in una prigione che si era costruito con gli anni c'è per esempio la scena in cui ringrazia che il suo cellulare abbia la torcia per potersi fare strada nel buio cosa che fino a qualche anno fa non avrebbe avuto ci fa capire che non siamo al Dylan luddista ovvero che è contro la tecnologia pre-meteora non siamo nemmeno nel Dylan che ha tranquillamente un indirizzo email e un biglietto da visita post a meteora siamo semplicemente in un Dylan che non si fa troppi problemi a essere libero in base alla storia che ci deve raccontare che è un po' questa la strada che su questo penso siamo tutti d'accordo che deve intraprendere per non essere troppo pesante a noi lettori c'è però un elemento del vecchio Dylan del Dylan classico dei primi 100 forse anche dei primi 50 che un po' mi manca e che vorrei vedere ancora ogni tanto che è quel classico elemento splatter che qui vediamo nel terzo atto il terzo atto è un delirio c'è una famiglia che litiga e s'ammazza e si vede di tutto bello avrei preferito quando vedo una storia splatter preferirei che lo sia dall'inizio alla fine però anche se questa aveva senso che lo fosse solo alla fine ci sta però ecco il Dylan classico a cui tanto si vuole ritornare parla di ci mostra due cose o ci mostra una storia splatter come la mia prima storia in cui mi sono imbattuto il male oppure appunto ci mostra una storia diciamo profonda che ci fa riflettere con più chiavi di lettura e lì può anche permettersi anzi forse è meglio perché distrae di non essere splatter e questo potrebbe andare bene qua invece non c'è nessuna delle due cose c'è un po' di splatter appunto alla fine ma è anche giustificato è sempre splatter se è giustificato piccola piccola mia domanda vabbè e quindi ecco vorrei vedere un po' questi gli elementi classici in una storia di Dylan Dogg mi piacerebbe vederla nei prossimi numeri il prossimo numero ammetto che la copertina classica dei Cestaro Brothers mi incuriosisce non posso assolutamente dire la stessa cosa di questa copertina che mi fanno presente è dovuta all'anniversario di Tex e quindi ogni testata della Bonelli ha una copertina con il cerchio dietro eccetera eccetera però sta copertina davvero non si può vedere non c'entra niente però appunto è per l'anniversario di Tex quindi per carità la prossima copertina invece sembra davvero molto interessante e probabilmente mi fregheranno anche questa volta penso che anche il prossimo mese comprerò il Dylan Dogg post post entropia non so se lo comprerò ogni mese non tanto per l'aumento in sé però a fronte dell'aumento vorrei trovare anche una certa qualità che qui c'è ma non lo so non sono del tutto convinto non per il numero in sé ma in generale non sono più del tutto convinto io credo che quello che aspetto sempre con ansia è il Color Festa voglio vedere cosa arriverà il 10 maggio fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia se vi è piaciuta se invece vi ha deluso o se vi è piaciuta ma poteva essere benissimo qualcun altro anziché Dylan Dogg a gestire i fili di questa trama scrivetemelo qua sotto nei commenti io non ho altro appunto da dire su questa storia che scorre bene ma appunto non ha chissà quali chiavi di lettura da poter approfondire quindi mi limito a dire che mi è piaciuta che mi pesa un pochino questo ennesimo aumento so che non è dovuto al fatto che alla Bunnelli si voglia comprare una villa d'oro ma sono costi che devono sostenere quindi per carità però appunto mi pesa quasi mi sarebbe pesato meno se non ci fosse stato l'indoramento della pillola che mettono ogni volta poi va quello va a carattere assolutamente ci mancherebbe però vabbè io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video